buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del gobo toscano on the road come mi ha suggerito in un commento il nostro carissimo amico giuseppe audino ha detto mi piace in questa versione on the road è veramente molto molto bellino mi piace mi diverto anche a fare video on the road allora nonostante non abbia un ferrari è perché comunque non per forza se sei uno youtuber devi avere un ferrari anzi allora arriviamo subito alla dunque intanto parliamo subito della superlega grandissima vittoria per quelli che oltre a livello simbolico per andrea agnelli e anche per far capire che il pensiero della juventus di quella juventus lì era giusto no era giusto proseguire nel discorso superlega perché ci hanno dimostrato i fatti e gli atti che non si può avere un monopolio delle partite no quindi era giustissimo andare avanti con l'idea della superlega ahimè poi agnelli è stato fatto fuori per motivi che alcuni di noi sanno altri pensano che sia stato sia andato via lui perché non aveva più voglia ma lasciamo perdere detto questo c'è una cosa molto importante è una rivincita anche per tutti gli youtuber che come me hanno sempre ridotto nel progetto superlega e che hanno sempre detto che il male della juventus non si chiamava andrea agnelli e dobbiamo anche riconoscergli che qualche trofeo più o meno importanti ce l'ha riportati quindi torniamo a parlare adesso finito il discorso superlega andiamo a parlare della partita che ci aspetta per poi finire al calcio mercato è quello che vi piace di più però lo teniamo per ultimo la partita ci aspetta col frosinone ragazzi è una partita sicuramente tosta 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 domani a mezzogiorno e mezzo mi pare sarà una partita veramente tosta perché abbiamo visto un frosinone ha fatto una partita storica una vittoria storica per 4 a 0 sul napoli in casa del napoli noi andiamo in casa loro a cercare di imporre il nostro gioco ma che così credo non succederà credo che il frosinone imporrà il suo di gioco perché ce l'ha molto più bellino di nostro però a questo punto la juventus dovrà essere brava almeno nel suo modo di giocare cioè con le ripartenze cercare di far male al frosinone sulla lunga distanza far vedere che i valori dei singoli sono migliori dei valori dei singoli del frosinone perché perché ragazzi oggi possiamo contare solo sui singoli noi viviamo di momenti no di momenti in cui le cose girano bene altri momenti in cui girano meno bene il nostro allenatore può dare un qualcosa in più ma nei limiti sappiamo benissimo che massimiliano allegri può fare fino a un certo punto con questa rosa qua massimiliano allegri non è idoneo per la rosa attuale della juventus detto questo mi aspetto i tre punti come me le aspettavo col genoa però tra il dire il fare c'è di mezzo bar figici aia l'avversario c'è di mezzo un sulle un caio orga un barane barane scea che vogliono sicuramente mettersi in mostra per poter ritrovare un posto alla casa base alla casa madre però anche lì ci sono degli degli dei risvolti di calcio mercato non indifferenti allora sulle sempre più pronto ad abbandonare il calcio della serie a per approdare in premier league per un'offerta che si aggira tra i 25 e 30 milioni di euro poi abbiamo barane scea che invece dovrebbe rimanere in pianta stabile al frosinone per tutta la stagione e poi tornare alla juventus e vedere semmai cosa fare io direi che un barane scea nonostante l'ho detto anche nel video scorso mi sono ricreduto sul ragazzo perché io non l'ho mai visto un giocatore da juventus ma al posto di locatelli come regista secondo me farebbe la sua sporchissima figura ma molto più bella del del buon manuel poi caio orga e caio orga è un'incognita dobbiamo vedere se riparte e ritorna a segnare comunque la sta giocando abbastanza bene comincia a prendere sempre più un minutaggio nelle gambe e più consapevolezza scusate l'italiano di stamattina un po scorretto nei propri mezzi quindi io spero che ci sia posto per tutti nella prossima stagione guidata da un allenatore se dio vuole con la maiuscola e non con uno che imbriglia i cavalli e gli impone di andare a 20 chilometri orari quando ci sarà una prateria da sfruttare gli 80 chilometri orari non so se avete capito un po' il paragone ma detto questo ci sono dei risvolti importanti sul calcio mercato perché healing anche lui è sempre più pronto a un addio sempre in direzione premier league ma ma con l'addio di healing e se dovesse andare via anche sulle la juventus può provare l'assalto a copminers dell'atalanta oltre ai vari oiberg philips che sono nomi che roteano sempre intorno all'orbita juventus ma c'è una concretezza di copminers per la formula si parla di un valore totale complessivo dell'operazione di 40 milioni quindi non sono noccioline spero che si possa limare un po' a scendere ma sarebbero 20 subito a gennaio 10 a giugno e 10 a giugno dell'anno dopo quindi si parla di un pagamento rateizzato da finire di pagare nel giugno 2025 il che tramite introiti champions league e quant'altro si dovrebbe far fronte a questo esborso ovviamente i 20 milioni nell'immediato te li ricopri già con la vendita di un healing o semplicemente con un sulle però hai altri fondi da dover tenere perché non si sa mai non si sa mai quello che può succedere quello che può succedere da qui a fine stagione perché la juventus secondo me arriverà in zona champions league può lottare per lo scudetto può addirittura addirittura rischiare di non arrivare tra le prime quattro io non ci voglio credere però bisogna sempre stare un po' attenti intanto ringrazio tutte le persone che hanno collaborato col canale Gobo Toscano che collaboreranno che collaborano tuttora che stanno mandando tutti i video di auguri non so se li state vedendo nella sezione short ogni giorno escono due video di auguri oggi c'è stato uno bellissimo di Adria Ricchiuti uscirà un altro calciatore molto importante nell'arco del pomeriggio quindi mi raccomando controllate bene controllate bene ora c'è un nomino che sta venendo verso la mia macchina e sta guardando dentro salve signore salve che bella giornata è un po' nuvoloso però si ci vuole anche l'improvvisazione perché arrivano persone che ti vedono gesticolare in macchina ma questo sceo ci fa intanto oggi ho portato la bimba abbiamo portato io e mia moglie la bimba fuori c'ha la maglina della juventus la felpa della juventus quindi sono orgoglioso di portarla in giro con questi colori ragazzi dobbiamo essere è natale quasi no? siamo tutti più buoni tutti un po' più tolleranti ecco quindi io non sparerò più a zero sui miei nemici i miei detrattori ma li saluto affettuosamente con l'augurio che il prossimo anno vi porti la voglia di creare dei contenuti un po' più sensati ecco questo ve lo voglio augurare perché vorrei che comunque la community di youtube possa cambiare possa cambiare in un certo senso e credo e credo mi è arrivato anche lo spazzino nel frattempo che cambierà e vi ricordo una cosa molto importante da gennaio ci saranno novità importantissime collaborazioni pazzesche sul canale del globo toscano mi raccomando rimanete collegati e poi da marzo ci sarà un altro lavoro in più ma non vi voglio spoilerare nulla perché qui si sta diventando internazionale attenzione 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 iscrivetevi se ancora non l'avete fatto lasciate like condividete il contenuto commentate a fine video intanto nomino a quelli tinti si vede potevi anche evitare i tingerti lì così perché si vede lontano un chilometro e niente ragazzi like, iscrizione, condivisione, commenti e attivate la maledetta campanella fino alla fine Forza Juve un ciao dal globo toscano ci vediamo presto per queste feste di Natale uscirà un video pazzesco il 25 ciao